come a 20 30 social innovation designers ormai sono 40 più di 40 i ragazzi che abbiamo affidato con tutto il cuore a questo corso ready for it con successo soprattutto nelle prime edizioni abbiamo avuto dei brillanti inserimenti quando ho lasciato il mio il mio paese io ho perso la mia vita la mia famiglia e il mio paese mi sono detta che zamarod tu non sei da sola tu devi continuare la tua vita ma questo giorno io ho iniziato la mia vita di zero e adesso io sono qui anche io ho fatto questo corso che la prima era molto difficile per me ma adesso non è difficile e sono molto felice quando che io ero in Afghanistan io facevo e sport ho iniziato a fare ciclista nel 2018 e io ero in una squadra di ciclisti con con donne e uomini facciamo e sport e per per libertà di donne specialmente nel 2021 quando talibani preso l'afghanistan tutte le situazioni cambiato e dopo non siamo riusciti a continuare i nostri sport quando mi sono iscritta per questo corso avevo paura perché la mia la mia livello italiano non era molto bene e avevo paura che non potrei finire questo corso continuato e oggi mi sono diplomata giana 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 Grazie a tutti!